ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video allora dovrebbe essere questo il primo video diciamo di questa miniserie perché dico primo video perché ragazzi oggi andremo a cambiare il case del mio computer a montare il dissipatore nuovo visto i problemi che ho avuto chi mi segue su Instagram è informato e andrò a montare anche la scheda video se tutto è andato come previsto il video dell'unboxing di questo case non l'avete ancora visto perché lo farò uscire il giorno dopo più o meno di questo video se l'ho fatto uscire prima evidentemente perché ho avuto qualche problema di montaggio che potrebbe anche esserci comunque non perdiamoci tempo in chiacchiere non vi spiegherò i pezzi e quello che c'è perché appunto l'ho fatto in quel video unboxing che vedrete e andrò direttamente a montare il case nuovo a portare i vari componenti da un case all'altro insomma a montare tutti i nuovi computer quindi non perdiamoci tempo e diamoci da fuori insomma a montare tutti i nuovi computer insomma a montare tutti i nuovi computer Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti